Siamo qua riuniti al colpetto del Signore per dare l'ultimo saluto al nostro amico Carlo. Per Smile Factor, programma televisivo di prossima realizzazione, ricerchiamo comici, imitatori, cabaretisti molto divertenti. Ma qui ho una tragedia, c'è alla Rai ora senza i conti che fanno. Ma in qualche modo faranno. Ma faranno! E io che voglio, io che voglio, ma come che c'è? La storia dei 50.000 euro è vera, no? Il format si dovrà intitolare Smile Factor. Così ho deciso e così dovrete fare. Chiaro? Chiaro, Carlo. Come scusate? Benvenuti alla prima delle quattro puntate di Smile Factor. A te, che te mi dà il vaffo in cul dei treno. Il veneno fu, il gatto miau, miau! Ecco, voglio godere, voglio sentirla urlare. Ma vaffanculo! Lo sai chi ha detto schetteva la sua moglie? Questo è Nicolino, tuo figlio. Accidenti e carambacoli. E' meglio delario soldi. Valorista, ma tenda il libretto bello e i sombri a un solo soldi. E come diciamo noi? Good Duke! Buon Augusto! Buon Augusto! Buon Augusto! Buon Augusto! Grazie.